La soluzione ZES l'avremo a medio termine, è impossibile pensare a una bacchetta magica. Io sono subentrato al mio predecessore da un paio di tre mesi e mi sono messo sull'argomento a gamba tessa perché ritengo che ZES significa un punto di forza del nostro territorio. Se noi riusciremo a portare interesse e attrazione sui nostri territori, industrie straniere che porteranno quindi posti di lavoro, occupazione nuova e possibilità di sviluppo, avremo adempiuto al nostro mandato. E quindi questo è il nostro obiettivo. Guardi, il porto è la porta delle ZES, mi passi il termine, perché dal porto poi avremo tutto quello che servirà. Ovviamente questo vuol dire che bisogna lavorare in squadra, avere tutti lo stesso obiettivo e lavorare tutti sullo stesso senso. In difficoltà ne avremo tante, però io penso che il buon senso e la voglia di fare è quella che ci porterà alla giusta soluzione.